Vediamo un po' se c'è qualcuno, io le mie dirette improvvisate che arrivano sempre, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo farvi un saluto veloce in questa giornata in cui ho appunto poche ore a scuola e quindi poi nel pomeriggio mi dedico a contenuti, video vari, quindi visto che era da tanto che non facevo una diretta Instagram, buongiorno Cinzia, ho detto perché non fare un saluto, magari rispondere a qualche domanda se ne avete. Vedete, so che non vi ho preannunciato nulla, ma fino all'ultimo non sapevo come si sarebbe sviluppato la mia seconda metà della mattina e il mio pomeriggio. Ho visto, mi avete segnalato in tanti, che l'applicazione NoiPa non funziona, però da sito vi posso assicurare che si apre, c'è stata una manutenzione di recente. E quindi penso che sia questo il motivo per cui da appunto da cellulare ancora non funziona bene. Stanno per essere pubblicati anche gli importi degli stipendi di febbraio. Quindi adesso cercherò anche di darvi delle notizie rispetto a questo. Allora, Bianca Elena mi fa la prima domanda, dice buongiorno, quest'anno si può partecipare ancora come ITP sia al concorso sia alle graduatorie? Allora, Bianca Elena, ti dico per il concorso assolutamente sì, entro il 31 dicembre 2024 gli ITP possono ancora partecipare con il solo diploma. Per quanto riguarda le graduatorie non lo sappiamo, nel senso che per le graduatorie stiamo aspettando una nuova ordinanza ministeriale, scusami, non un nuovo regolamento, che dovrebbe arrivare intorno a metà maggio e che dovrebbe disciplinare l'ingresso nelle nuove graduatorie provinciali. Ovviamente si presume che possano essere delle regole simili rispetto a quelle che ci sono in questo momento in vigore. L'unico problema riguarda le secondarie e quindi nello specifico la categoria dei docenti ITP e la categoria dei docenti di posto comune delle scuole secondarie. Per cui sul concorso ti rispondo di sì, per quanto riguarda le GPS bisogna cercare di capire che linea seguirà il ministero e quindi attendere ancora un pochino per quanto riguarda i requisiti di ingresso nelle GPS e anche per quanto riguarda la tabella di valutazione dei titoli. A grandi linee per la valutazione dei titoli non dovrebbe cambiare molto, però non lo sappiamo. Allora, Caterina buongiorno, secondo te il TFA 2024 sarà l'ultimo? Allora, questa questione che il percorso di specializzazione sul sostegno sia l'ultimo va avanti almeno da due anni. Io onestamente non ho elementi per risponderti, però ti dico che è già capitato, è capitato anche l'anno scorso, che in qualche modo si sia diffusa questa voce che poi si è rivelata assolutamente non vera. E quindi io penso che allo stato attuale sia soltanto allarmismo. È vero che è stato detto senza nessuna ufficialità e senza nessun riscontro concreto poi, che magari l'idea in futuro sarebbe quella di trasformare la specializzazione sostegno in una mini laurea, in un corso che prenda un lasso di tempo un pochino più lungo. Però attualmente non abbiamo nulla in mano e quindi la struttura del TFA viene riconfermata, anche perché ci sono delle necessità in tutta Italia di coprire cattedre di sostegno in tempi brevi. E quindi finché la necessità delle scuole sarà questa, io penso, dal basso della mia bassezza, che non si possa pensare di intraprendere un percorso di specializzazione sostegno più lungo. Perché poi fondamentalmente l'idea che era stata accennata era quella appunto di farlo diventare un mini corso di laurea, quindi sicuramente fatto per tempi più distesi. Attualmente per come stanno le cose io penso che sia allarmismo. Ciao Cante, Federica, ciao. Domanda riguardo le GPS, nel caso in cui non si dovesse passare il concorso si potranno aggiornare le preferenze ma sarà possibile cambiare provincia e comune? Allora Federica, GPS e concorso viaggiano su due binari indipendenti l'uno dall'altro, quindi se tu vinci il concorso lo saprai tra l'altro dopo l'aggiornamento delle graduatorie, perché le graduatorie si aggiorneranno adesso io presumo intorno a metà fine maggio, l'esito del concorso, quello definitivo, insomma almeno che uno non venga direttamente bocciato alla prova scritta, però nel caso in cui superiamo la prova scritta, cosa che ci auguriamo tutti, poi ci sarà l'orale, ci sarà la valutazione dei titoli e quindi l'esito definitivo del concorso si saprà dopo l'apertura delle GPS. Per cui consiglio mio è l'inserimento in GPS e l'eventuale cambio di provincia facciamolo tutti, a prescindere. Poi ovviamente se incrociando le dita risultiamo vincitori e quindi destinatari di un posto in ruolo, basterà non aggiornare le preferenze e quindi non candidarsi alle supplenze. Però l'inserimento in graduatoria a tutela nostra lo dobbiamo fare ed eventualmente possiamo cambiare provincia. Allora, ciao cara, l'Università della mia città riporta ancora l'avviso relativo ai corsi di formazione 60 CFU da concludersi entro il 3105. L'avviso risale a ottobre 2023. Secondo te che cosa accadrà? Allora, i tempi dei percorsi abilitanti sono un grande punto di domanda. È un iter che fin dall'inizio, dal punto di vista dei tempi, ha dato molti dubbi. Perché sia il termine del 31 maggio per i corsi da 60 CFU, sia il termine del 28 di febbraio per i percorsi abbreviati, destavano veramente sospetto di essere difficili da rispettare. Ora, l'iter sta andando avanti per l'attivazione di questi percorsi abilitanti. Certo è che non abbiamo ancora un decreto ministeriale ufficiale. Di conseguenza non abbiamo ancora i bandi di iscrizione delle università. Di conseguenza non sappiamo effettivamente quando potranno partire questi percorsi abilitanti. Io penso che sarà difficile realizzare tutto entro il 31 maggio, soprattutto laddove i percorsi prevedano il tirocinio. Perché il tirocinio richiede, insomma, è molto più strutturato rispetto che semplicemente assistere a delle lezioni, a dei laboratori e fare degli esami. Per fare il tirocinio tu devi mandare le persone nelle scuole, quindi un po' come succedeva con noi a formazione primaria, tu devi fare come università, devi convenzionarti con le scuole, devi suddividere le persone, il tirocinio può essere sia diretto che indiretto. Per cui io ti dico, secondo me è difficile rispettare la scadenza del 31 maggio, oggettivamente, visto che siamo a febbraio. Però sicuramente quello di attivazione dei 60 CFU è un iter che non si può fermare al momento. Poi vedremo quando tutte le formalità verranno espletate, se sarà troppo tardi oppure no. Allora, la mia regione è stata aggregata? La prima prova in quale regione devo farla? Della mia o in quella aggregata? Quale sito devo monitorare? Allora, Serafino, l'ho detto tante volte, la prova scritta si fa nella regione in cui abbiamo deciso di concorrere, mentre per la prova orale sono valide le aggregazioni pubblicate dal Ministero. Le aggregazioni sono dovute al fatto che è necessario poi fare delle commissioni per la prova orale. Siccome voi dovete considerare che purtroppo una bassa percentuale dei candidati supera lo scritto, per ottimizzare, quindi per motivi logistici di ottimizzazione delle risorse, per la prova orale si è scelto di aggregare. Il sito che devi monitorare, invece, è quello dell'ufficio scolastico regionale della regione per cui hai scelto di concorrere. Lì troverai le date delle prove scritte, che comunque saranno nazionali, la suddivisione dei candidati per la prova scritta, quindi con la scuola in cui ti dovrai recare, e poi anche le successive istruzioni per la prova orale. Allora, aspettate che scorro. Quando ci sarà il concorso primario e infanzia? Si sa qualcosa. Valeria, ciao. Allora, il concorso primario e infanzia è nella stessa situazione dei concorsi per le secondarie, cioè stiamo aspettando la data dello scritto, che dovrà, per forza di cosa, essere comunicata minimo 15 giorni prima e null'altro, quindi stiamo aspettando semplicemente. Non abbiamo elementi per fare delle previsioni, nulla. Applicazione ex articolo 59 per il sostegno prima fascia. Che possibilità ci sono per l'anno scolastico 24-25? Allora, Martina, sta parlando delle assunzioni straordinarie prima fascia sostegno. Allora, sicuramente c'è tanta pressione da parte dei sindacati per riproporre e rinnovare questa procedura che ha avuto molto successo negli anni passati, in particolare l'anno scorso anche con la procedura della Mini Call Veloce, quindi con il fatto che anche da prima fascia sostegno per essere immessi in ruolo ci si potesse candidare in altre regioni. La pressione i sindacati la stanno facendo anche per assumere da prima fascia posto comune, sicuramente. Sapremo il tutto, cioè sapremo se la procedura verrà rinnovata nei mesi che verranno. Sicuramente ci sono, io direi, le stesse probabilità degli anni scorsi, nel senso che la situazione per quanto riguarda il sostegno in determinate regioni d'Italia continua ad essere critica, continua ad esserci necessità di assunzioni sostegno, quindi la possibilità secondo me rimane tale rispetto agli scorsi anni. È chiaro che in alcune regioni, in alcune province, assumere il ruolo da prima fascia sostegno non sarà possibile perché non sarà necessario, mentre in altre regioni è ancora un imperativo. Poi quel che deciderà di fare il Ministero, io e voi non lo possiamo sapere al momento, però le condizioni, ecco, le necessità e le condizioni della scuola non sono cambiate, assolutamente. Poi, ci sarà a maggio l'inserimento in GPS? Sì, inserimenti e nuovi aggiornamenti. Poi, chi ha il part-time ha diritto ai tre giorni di permesso o sono meno giorni? No, chi ha il part-time ha sempre diritto ai tre giorni di permesso retribuito a condizione che abbia o un contratto al 30 giugno o al 31 agosto o a tempo indeterminato. Se ho preso le 150 ore di diritto allo studio per magistrale, potrei usarle anche per i percorsi abilitanti? Word Martina no, perché purtroppo, visto che hai preso le 150 ore e lo sai, quando si richiedono e si ottengono le ore di diritto allo studio, la richiesta e l'ottenimento è sempre in funzione ad uno specifico percorso universitario che si sta seguendo. Quindi, questo non può cambiare. Cioè, se tu hai preso le tue 150 ore perché in quel momento eri studente di corso di laurea magistrale, poi magari nel frattempo il corso di laurea è finito e ti sono residuate alcune ore, tu non puoi in autonomia arrogarti il diritto di dire vabbè, adesso le prendo e le uso per i percorsi abilitanti. Questo non si può fare, bisogna fare una nuova richiesta in funzione del nuovo percorso universitario che tu stai, che starai facendo, ecco, perché i percorsi abilitanti non sono ancora partiti. Allora, ma dove vedo se la mia regione è stata aggregata? Sono state pubblicate le aggregazioni per la prova orale dei concorsi scuola. Trovi il decreto ministeriale sul sito del MIM. Poi, chi si laurea a giugno in formazione primaria riuscirà ad inserirsi nelle GPS 2024 prima fascia? Allora, come sempre, quando aprono le graduatorie si dà un periodo di riserva, cosa che per esempio non è successa per il concorso. Cioè, si dice il lasso di tempo per iscriversi è questo, generalmente un paio di settimane, una quindicina, ventina di giorni, in questo lasso di tempo tu ti puoi iscrivere anche se prevedi di laurearti, per esempio, entro il 30 giugno, no? Per esempio, l'anno scorso è stato dato questo come termine, il 30 giugno. E poi, il candidato che riesce a laurearsi entro quel termine scioglie la riserva positivamente. Se invece poi, per qualsiasi motivo, non ci riesce, insomma, l'iscrizione dalle GPS decade. Questo è come funzionava fino agli anni scorsi. Non vedo motivo per cui non dovrebbero concedere la stessa cosa quest'anno. Solitamente il termine dato, appunto, era il 30 giugno. Quindi io ti direi se prevedi di laurearti entro giugno, fai di tutto per riuscirci. Se la tua previsione è luglio, come me, per esempio, io mi sono laureata ai primi di luglio, è un po' una fregatura, nel senso che potresti non rientrare nella riserva. Di solito poi ci sono anche gli atenei che si allineano su questo. Cioè, le università sanno che i laureandi di formazione primaria stanno un po' sul filo del rasoio, soprattutto nell'anno in cui si rinnovano barra si aggiornano le GPS. Quindi c'è anche, dall'altra parte, l'intelligenza degli atenei di dire aspetta, mettiamo l'appello una settimanina prima. Io, per esempio, mi sono laureata nel 2023 che era l'anno di mezzo. Però, sì, insomma, in linea di massima questo è quello che posso dirti fino a questo momento. Allora, ciao Kate, ciao Marco, non mi è molto chiaro come si svolgerà la fase transitoria. Il tesoretto dei 24 CFU rimarrà per il riconoscimento sconto al percorso da 60 CFU? Sì, assolutamente sì. Diciamo che la fase transitoria si definisce transitoria perché stiamo passando dal vecchio recludamento al nuovo. Parlo sempre delle secondarie, per primaria e infanzia non cambia nulla. E viene data, nello specifico, fino al 31 dicembre 2024, la possibilità a chi è in possesso dei vecchi titoli validi, quindi in questo caso i famigerati 24 CFU, di partecipare ancora ai concorsi sempre entro il 31 dicembre 2024 e poi di integrare con il percorso che porterà alla nuova abilitazione, quindi quella da 60 CFU. Nel tuo caso, se hai i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022, potrai richiederne il riconoscimento e quindi di fatto conseguirne solo i 36 che mancano. Allora, punteggio derivante dal concorso in GPS, Sonia Cannas ha parlato di tre punti, sei donne iscritte orale per il concorso di ottobre non so. Allora, Antonella, sì, quello che dici tu a cui si riferiva anche la la collega è la classica attribuzione, diciamo così, quello che è stato nella tabella di valutazione dei titoli finora per quanto riguarda i concorsi ordinari, cioè il loro superamento dà diritto a tre punti nelle graduatorie provinciali, poi dà diritto anche a dei punteggi nelle graduatorie interne e di mobilità, ma questo è un altro discorso prettamente valido per i docenti che poi entrano in ruolo, insomma. dovrebbe essere così anche questa volta perché appunto sono dei concorsi ordinari, dobbiamo sempre aspettare la tabella di valutazione dei titoli delle nuove GPS, questo ovviamente sarebbe importante perché rappresenterebbe un vantaggio direi l'unico vantaggio anche per gli idonei a questo concorso visto che non si prevede una graduatoria di idonei ma solo di vincitori, almeno gli idonei rimangono questi tre punti ecco diciamo per farla molto spiccia allora uno studente magistrale può completare la classe di concorso dopo l'iscrizione ai percorsi? I CFU che mi mancano non sono CFU previsti nel mio piano di studi ma necessari per completare la classe allora Ludovica è possibile se sei uno studente di magistrale iscriversi ai percorsi abilitanti? Sì purché tu abbia raggiunto mi pare un minimo di CFU una soglia di CFU che adesso non ricordo ti direi 150 ma forse mi sbaglio comunque da studente magistrale sì è possibile iscriversi ovviamente dovrai sostenere se ci saranno dei test di preselezione allora se i percorsi abilitanti mi dice Mary si fanno nella regione di residenza ma poi per le GPS necessariamente non ci si può inserire in quella regione è un problema dovrai scegliere di non farli o di non lavorare allora Mary non è prescrittiva nessuna delle due cose cioè non è obbligatorio fare i percorsi abilitanti nella regione in cui risiedi esattamente come non è obbligatorio inserirsi nelle GPS nella provincia in cui risiedi quindi tu puoi tranquillamente decidere di andare a fare percorsi abilitanti e GPS nello stesso posto chiaramente l'unico vincolo a questo punto è che il percorso abilitante della classe di concorso che ti interessa deve essere attivato dall'ateneo che ti interessa però non è assolutamente prescritto da nessuna parte che tu il corso abilitante debba farlo dove risiedi ma perché quelli che hanno contratto all'8 giugno non hanno diritto dei tre giorni di permesso perché i contratti fino al termine delle lezioni quindi non fino al termine delle attività che sarebbe il 30 giugno ma al termine delle lezioni sono considerate supplenze brevi e non e non hanno diritto appunto a questi tre giorni ai sensi del nuovo contratto collettivo nazionale purtroppo ci sono novità sulle assunzioni prima fascia sostenga articolo 59 Caterina ha risposto prima poi ovviamente questa live verrà salvata Caterina non so se puoi aiutarmi io ora sono nell'anno di prova ma siccome ho marito nell'esercito posso chiedere il trasferimento come funziona grazie allora se sei assolutamente sì se sei moglie di militare ruolato insomma c'è tutta una casistica specifica comunque quindi sei soggetta a frequenti trasferimenti rientri in una delle categorie protette insomma che può chiedere assegnazione provvisoria in un'altra scuola significa che la tua scuola di titolarità rimane sempre quella in cui hai ottenuto il ruolo ma almeno per un anno potrai appunto ottenere un'altra sede poi resta sempre ferma la possibilità di chiedere la mobilità di cattedra quindi la mobilità territoriale quindi il trasferimento definitivo questa sarà una procedura che si aprirà a marzo e anche lì potrai inserire il tuo status diciamo che ti dà diritto ad una precedenza sugli altri proprio perché è una condizione particolare poi ok mi sa che non si grazie intendo che essendo in Calabria farei percorsi qui ma nelle gps non c'è speranza quindi dovrei fare percorsi al nord senza avere la sicurezza di essere chiamata per lavorare questo è un altro è un altro è un altro grande tema ma proprio grande ah no perché in anno di prova giusto non potrà chiedere mobilità infatti avevo detto allora diciamo che c'è un grande in questi giorni un grande dibattito che riguarda la mobilità e i trasferimenti perché l'anno scorso è stata concessa la mobilità anche a chi era in anno di prova è successo l'anno scorso e non succederà quest'anno purtroppo ogni tanto il ministero così arbitrariamente si arroga il diritto di tirare una linea e dire vabbè a questi sì a quelli che verranno dopo no per motivi x e quindi sì potrai chiedere soltanto assegnazione provvisoria essendo nel tuo anno di prova scusate io con la mia sobrissima borraccia qui aiuto allora mi sono persa qualche domanda nel frattempo devi aspettare devi aspettare che si aprano i termini per la richiesta di assegnazione provvisoria poi ovviamente ci sarà tutta la formalità relativa al superamento dell'anno di prova che ovviamente è un requisito fondamentale nel senso che se non superi l'anno di prova poi quella domanda decade ok allora vedo che non ci sono più domande quindi tenderei a salutarvi questa diretta la salverò sul canale youtube quindi la troverete lì nel caso in cui riteneste utile e opportuno riguardarvela e io vi ringrazio anche perché era veramente una cosa improvvisatissima fatemi sapere poi se avreste piacere di fare più live in cui così rispondiamo a delle domande anche perché io riesco veramente poco a rispondere ai messaggi in questo periodo per cui può diventare un utile modo per voi di avere risposte immediate e per me di non avere la pressione dei messaggi a cui non riesco a stare dietro quindi io vi saluto tempo una decina di minuti trovate questa diretta nel canale youtube a cui vi invito ad iscrivervi se vi va ciao ciao